Non ti preoccupare Non apprezzo sta cosa, lo sai no? Punteggio, 7-5 Cantilmo, 6-3 Cimmino, 5-3 Cimmino, vantaggio Cimmino Ora se si ritira... Non si è ancora ritirato Ma mi ritiro ragazzi Decide il maestro Jody È stata una bella esperienza Come va? Ma in più Questa è la seconda partita che finisce oggi così, quella tra Orazzo e... Tra Orazzo e Boscatto, dopo quattro ore e mezzo a Boscatto il crampo Grazie Silvio No grazie a te Mi hai reso noto per 5 minuti Ma continui? No no basta Basta E ci vuole un applauso ragazzi Bravissimo Bravissimo Ora potete andare a mangiare Andiamo a mangiare insieme Margherita dove? Qui vicino Tanto qua la mozzarella per Caserta Mamma mia Bella battaglia, complimenti Dario Grazie Silvio Grazie